Donna investita mentre attraversa la strada, il dramma si intensifica quando l'auto pirata la travolge e fugge via. Prima di raccontarti i dettagli di questo tragico incidente, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille! In un tragico incidente stradale, una donna anziana viene brutalmente investita mentre cerca di attraversare la strada. La situazione prende una svolta ancora più spaventosa quando, dopo che una vettura si ferma per farla passare, un'altra auto la travolge improvvisamente da dietro e senza esitazione fugge via dalla scena. Il violento impatto getta l'anziana di 80 anni a diversi metri di distanza, lasciandola gravemente ferita e in pericolo di vita. Il terribile incidente si è verificato ieri pomeriggio, scuotendola tranquilla via Labriola a Scampia, dove la donna stava cercando di attraversare la strada in direzione di via E. Ciccotti. Mentre la vittima lotta per la vita all'ospedale Cardarelli, le autorità si sono mobilitate per indagare sull'incidente. Gli agenti della Polizia Municipale, supportati dal comandante colonnello Joselito Orlando e dal capitano Gaetano Amodio, stanno cercando di identificare il pirata stradale responsabile dell'incidente e il veicolo coinvolto. La donna, attualmente ricoverata in prognosi riservata, è in una situazione critica, mentre le indagini continuano per portare il responsabile alla giustizia. Le telecamere di sorveglianza nella zona potrebbero fornire preziose prove per aiutare le autorità a rintracciare il fuggitivo e garantire che sia assicurato alla giustizia per il suo atto Vile e Codardo.